Ingredienti Dosi per 4 persone 100 grammi di ceci 100 grammi di fagioli bianchi Mezza scatola di mais Una carota Una cipolla Una costola di sedano Uno spicchio d'aglio Una foglia di alloro Un rametto di rosmarino Olio Sale Pepe nero e 100 grammi di pasta, tipo di talini Preparazione Lasciare a bagno separatamente ceci e fagioli per una notte e poi scolarli dal loro liquido Metteteli in una casseruola e lessateli per circa due ore in acqua calda Tritate la cipolla con la carota Il sedano e l'aglio e rosolate in un poco d'olio a fuoco dolce Aggiungete i fagioli I ceci ed il mais Lasciate insaporire Unite l'alloro ed il rosmarino Coprite il tutto con un litro e mezzo di brodo Salate Pepate e cuocete a fuoco lento per circa 30 minuti Versate ora la pasta e cuocete per altri 15 minuti Mescolando di tanto in tanto Servite il minestrone con un filo di olio d'oliva e pepe nero grattugiato fresco Il piatto è pronto Buon appetito!